E' gravemente ferito il 24enne australiano colpito da un toro a Pamplona durante la festa di San Firmino. Una televisione lo ha immortalato mentre all'interno dell'arena si piazzava davanti agli animali in gesto di sfida, fino a quando un toro lo ha incornato. Dal 1911, primo anno della festa, ci sono stati 15 morti.